L'elezione, la primavera, la poesia. Ma io, ma no, non c'è poesia. Come diceva il grande Formica, la politica è sangue e poesia. Andiamo avanti. Non diceva esattamente così. Formica diceva una parola un po' diversa, ma è un orario che non si può dire. Esattamente. Allora, ovviamente parleremo della soluzione che riguarda suo padre, Lotti e i due carabinieri. Due carabinieri che sono stati condannati perché in realtà, oltre a riguardarla direttamente, la vicenda, ma ci riporta al tema del dossieraggio di oggi. Interessante questo titolo del Fatto Quotidiano che dice Consip. Pagano i due carabinieri assolti Baborenzi. Adesso ci arriviamo perché sembra che paghino solo loro. Però adesso lo ripetiamo. No, no, non sorrida. Lei sa quanti articoli sono stati fatti dal 1 gennaio 2017 ad oggi sulla vicenda Consip? Quanti? Chiedo scusa se non li ho contati. 40, 50, 70. Sono stati fatti 6.487 articoli. Va bene, tiriamo questo dato. Sa quanti ne ha fatti il Fatto Quotidiano? 1.300. Cioè praticamente una volta ogni due giorni. Oggi è in prima pagina, poi ne parliamo. È in prima pagina, ma la verità è che ci hanno massacrato la vita con un'accusa falsa. E non soltanto a Luca Lotti, a mio padre, ricordo Alfredo Romeo, ricordo Bocchino, ricordo Filippo Vannoni, ricordo Carlo... Tutti quelli che sono stati assolti. Emanuele Saltaramacchia, uno dei più brillanti dirigenti dell'arma, hanno massacrato un'intera squadra perché volevano inventarsi qualcosa. Prometto che ci torniamo perché c'è molto di più, perché i due carabinieri poi ci riportano anche alla vicenda dei dossier di oggi, quindi non sfuggiremo a questo. Torniamo un attimo.